Spero che abbiate installato, fatto girare il test dei notebook e quello che vi chiedo è di intanto andare a verificare che voi avete un file che si chiama Pluviometria di Paperopoli, che è questo, e avete un file che si chiama, che adesso il nome qui non lo vedo, ma che è quello, penso sia Reading a File, in particolare un file CUS, leggiamo proprio questo file. Lo scopo di questa lezione è intanto di cominciare a prendere confidenza con questo ambiente che è molto versatile, molto potente, però bisogna un minimo farci abituarsi ad usarlo. Le celle che vedete, come vedete qui, Jupyter Lab va a una parte a sinistra, dove compaiono i file. In alto c'è una casetta che significa la home, questa è la directory dalla quale siete partiti. Quello che vi consiglio di fare è partire sempre dalla directory rispetto alla quale avete i file che poi vi serviranno. I file al di sotto di questa directory, di questo folder, non so come lo chiamate voi, non sono visibili. Viceversa sono visibili tutte le cartelle sottostanti. Per esempio, nel mio caso c'è questa cartella che si chiama Preliminary, nella quale io sono. Se io clicco invece sulla casetta, ritorno sui vari elementi di base. Per questa lezione voi potete fare in due modi. Potete sia aprire il file, reading a file with pandas, reading a file cvspile, file with pandas, ed eseguire i comandi. Questo è il modo più semplice. Comunque quello che faccio io è, semplicemente apro un notebook nuovo, si fa file new notebook e parte un nuovo notebook che è intitolato untitled.nb. Se si clicca col tasto destro sopra, si apre un menu a tendina e lo possiamo rinominare. Per esempio io lo rinomino lezione 2020-04-29, che sarebbe oggi. Ok, adesso questo è rinominato. Dopo, pian piano, andiamo a vedere tutti gli elementi che compaiono. Ogni cella, un notebook è composto di celle, ogni cella può essere una cella di codice, una cella di markdown, una cella raw è chiamata. Cioè, markdown ha un minimo linguaggio di programmazione, di formatazione del testo. Quindi possiamo inserire commenti. La cosa buona è che nel testo si possono inserire anche formule. E quindi, per esempio, un notebook può diventare un elemento semplice di scambio di dati e di informazioni, senza dover produrre altri documenti, almeno in ambiti informali. Quindi, per esempio, adesso io voglio inserire un titolo. Allora si usa l'hashtag per dire che questo è un titolo. Ho selezionato markdown, come vedete qui, e qui scrivo lezione del 29 aprile 2020. Nel momento in cui si esegue, compare il testo. Voglio ancora commentare che cosa stiamo facendo, perché in questo caso sto introducendo tutto il materiale, quindi vi voglio pian piano introdurre tutti gli elementi che poi vi consentono di andare avanti, anche da voi. E qui, per esempio, dico carico le librerie necessarie. Questo è un commento per cui, una volta che non ho messo nessun hashtag, per cui è una porzione di testo che è normale. La prima libreria che io importo è la libreria OS, che è quella che mi consente di accedere ai comandi del sistema operativo. Meglio conoscere quali file ho nelle directory e cose di questo tipo. Voglio anche dare un comando. Questo comando che vado a dare è os.getcwd che mi serve per conoscere qual è la directory dove io sono. Come vedete, compare come risultato una stringa perché è fra apici e mi compare la mia directory che si trova con questa lunga serie di dati. Se voi lo fate anche voi, probabilmente per gli utenti di Windows comparirà diversamente. In particolare la mia slash, la mia barra, sarà sostituita da una doppia barra retroversa però nell'altra direzione. scusatemi il tempo. La barra retroversa identifica le directory nei sistemi Windows. Questa è la mia directory di lavoro. So già in realtà dalla finestra di sinistra che sono le directory giuste, o comunque voglio sapere il nome dei file che compaiono nella directory. Il comando che devo dare è questo. Può essere listdir. Vi sto anche illustrando il modo in cui io userò Python. Questi sono tutti i comandi di Python e queste sono librerie di Python. In particolare in alcuni casi io vi insegnerò anche come fare alcuni mini programmi, ma non vi insegnerò Python che io suppongo voi già conosciate. Vi insegnerò ad usare in maniera possibilmente sufficientemente adeguata queste librerie. In particolare io sono interessato a questo file che si chiama pluviumetriapaperopoli.txt Io in realtà pluviumetriapaperopoli.txt lo posso andare a vedere comunque. È un file di questo tipo. Non è un file molto ben costruito dal punto di vista dei dati, nel senso che se non sapessi che cosa c'è dentro non sarai in grado di avere molte informazioni. Vedo un'intestazione, comunque hanno 1H, 3H, 6H, 12H, 24H. E qui questa è l'intestazione e 1H sta per un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Sotto l'anno c'è una colonna di numeri che sono gli anni rispetto ai quali la pluviumetria è stata presa. Io so, perché questo file l'ho costruito io, che questi sono i massimi annuali di precipitazione, in questo caso, in questo ipotetico posto che si chiama pluviumetriapaperopoli. Vedete anche che alcuni dei dati che compaiono non ci sono e al loro posto compare una scritta che è NAN. Questo è il modo per, codificato in NumPy, che è una libreria di Python, per indicare i dati non presenti. Ora ritorno alla mia questione, alla mia notebook. Quello che voglio fare ora è caricare i miei dati con... caricare i miei dati che stanno in quel file. Per importare i dati uso una libreria che si chiama pandas. quindi from pandas import asterisco, significa tutti i campi, import pandas as pd. Questo secondo comando mi permette di usare il nickname, il soprannome pd, per tutti i metodi che sono dentro la libreria pandas. Non ho nessun segnale di risposta, questo significa che tutto è andato a buon fine. Per usare, per importare un file csv c'è un comando nei pandas che si chiama red.csv Leggo il file Come ho fatto a sapere che nei pandas c'è questo comando red.csv? Beh, la prima volta che mi sono avvicinato ai pandas e non avevo nessuno che mi insegnasse come si fa, come sta succedendo a voi, ho dovuto semplicemente leggere il mio libro sui pandas. Ne ho forse condiviso anche qualcuno. In rete si trovano tantissime informazioni su questo. Ad esempio, una cosa che si può fare in maniera molto semplice è quello di fare, usare Google, ovviamente in inglese. In questo caso avrei googolato How to read a csv file comma separated value significa with pandas e sicuramente avrei trovato varie risposte. Le indicazioni, i commenti, il materiale sui pandas è enorme. Il problema non è che manchi il materiale, è che addirittura ce n'è troppo e quindi in questo caso siamo molto fortunati perché abbiamo la possibilità di selezionare alcune semplici domande. In questo caso voglio chiamare i miei dati data, non ho grandi fantasia, uguale, pd, uso il nickname che ho definito prima, red csv csv e dentro ci devo mettere che cosa? Devo metterci il nome che qui posso prendere così semplicemente sottolineandolo e copiandolo con command c no ho sbagliato perché ho non l'ho copiato ma poi ok adesso dovrebbe funzionare ok e command d per inserire a questo punto vediamo se tutto va bene c'è stato naturalmente quando le cose vanno bene è tutto estremamente semplice e lineare quando le cose vanno male che bisogna cercare di capire che cosa è successo in questo caso python dà dei codici di errore la cosa migliore è andare fino in fondo e vedere qual è l'ultimo codice di errore di solito la descrizione dell'errore è abbastanza indicativa e indicativa naturalmente per chi sa capire e leggere attraverso bisogna che vi abituiate un po' alla volta come facciamo a visualizzare i dati basta indicare il nome della variabile con cui i dati sono stati elencati e in questo caso come vedete siamo stati particolarmente fortunati perché io avevo già preparato il file per essere fortunato per così dire e mi esce una tabella di dati in cui ogni colonna ha un nome questo sono sottolineati in retto e la prima colonna in particolare è quella degli anni qui compare è una serie di 50 dati come vedete va da 0 a 49 in python è sempre così i numeri vanno da 0 a 49 e ho formattato una bella serie come faccio ad accedere gli elementi di un data frame beh ci sono vari modi per accedere per esempio voglio accedere la colonna le colonne si possono chiamare per nome e poi posso chiamare invece le righe per numero in questo caso andiamo la colonna 12 ore quindi è la penultima colonna e la riga è la riga 25 ma la riga 25 andiamo a vedere la riga 25 come vedete 25 42 punto 8 non è la 25esima riga vi ricordo è la 26esima e l'anno è il 1960 42,8 in questo caso sono i millimetri di precipitazione caduti in 12 ore massimi è il massimo di 12 ore nel 1960 possiamo informarci prendere alcune altre informazioni su su che cosa è contenuto in questo data frame un data frame è un oggetto complesso che contiene in dati ma anche indicazioni sui dati per esempio se io chiamo il campo index di data mi dice mi dice che è un indice che parte da 0 e si ferma a 50 quando si ferma a 50 questo è un modo usuale di indicare i dati in in python vuol dire in realtà da 0 a 49 step 1 uno per uno un'altra cosa che che può essere interessante per per me è è quella di vedere come sono le colonne questo si fa data columns c'è un altro campo questo mi dice che l'indice come vedete l'indice le colonne sono rappresentate fra parentesi quadre e poi sono degli apici gli apici significa che i nomi delle colonne sono delle stringhe cioè degli oggetti dei caratteri un insieme di caratteri mentre il fatto che ci siano le parentesi quadre dicono che è un vettore in questo caso di un vettore di caratteri che è un oggetto tra quelli che possiamo usare definire e vedere nei pandas quello che voglio adesso è che questo anno vorrei usare l'anno come indice invece del numero progressivo da 0 a 49 e vorrei anche che l'anno fosse riconosciuto come una data per fare questo uso un altro pacchetto che si chiama date time as date time e uso un comando che si chiama map adesso scrivo il comando e poi lo spiego allora intanto date time è un un metodo si dice una funzione del pacchetto date time che cosa fa dice che quel numero al quale viene applicato è una data io date time lo voglio applicare ad ogni elemento della colonna anno come posso selezionare anzi facciamo così aggiungo una colonna se io chiamo come faccio a chiamare una sola colonna nei data frame semplicemente indico il nome del data frame e come abbiamo visto anche prima semplicemente il nome della colonna e qui metto anche head perché non voglio tutto non voglio tutto voglio solo i primi elementi i primi 5 elementi e quindi questi sono i primi che vedete sono i primi 5 elementi della colonna anno io voglio applicare date time su tutti gli elementi della colonna anno normalmente nei linguaggi di programmazione forse anche quando vi hanno insegnato python vi hanno detto che questo si fa con un ciclo for e quindi potrei sicuramente fare un ciclo for e applicare il ciclo for uno per uno la funzione date time e poi ottenere il risultato in questo caso esiste una funzione map che ci toglie il problema di usare un ciclo for è un po' più sintetica del ciclo for e fa esattamente la stessa funzione questo perché python ha delle modalità di programmazione che si chiamano modalità dichiarative non si dice come si fa fai un ciclo da uno ad n ma si dice cosa si fa mappa date time su tutti gli elementi e il secondo elemento è che io voglio mettere voglio che che tutti che tutti la mia prima colonna mi diventi un indice allora i python in generale e comunque i pandas in particolare hanno una struttura di oggetti quindi data questo data frame è un oggetto questo oggetto ha dei metodi che ha dei campi di campi ne abbiamo già visti due per esempio index e columns ci sono uno invece dei metodi cioè delle funzioni che agiscono su questo su questo ente è set index in questo caso si può usare una colonna e renderla uguale ad index il comando è questo che voi vedete voglio che la colonna hanno mi diventi l'indice e difatti lo diventa tuttavia non non lo fa se io se io vado ad interrogare il mio dato iniziale questo non ha l'anno come indice devo riassegnare il risultato alla variabile ok adesso il mio data ha come indice l'anno questo perché ho fatto questa operazione perché poi voglio usare degli altri elementi degli altri metodi che sono propri dei dei pandas per poter disegnare facilmente i risultati che io ho visto per poter disegnare uso un'altra riveleria che si chiamava matplotlib in particolare uso pipelot che è un libreria che emula molto il comportamento di matlab e la importo con il nickname plt metto anche questo comando che non dovrebbe più essere necessario ma lo metto lo metto comunque che serve per visualizzare all'interno dei notebook i risultati di matplotlib eseguo benissimo e adesso vado a fare a disegnare il mio la mia il mio elemento vado a definire un insieme di assi questo ax sta per access e in particolare a questo insieme di assi associo un un disegno in particolare è molto semplice c'è un metodo plot che è preso da matplotlib che i pandas utilizzano e che permette di plot i disegni il metodo plot può essere può avere dei campi di customizzazione e per esempio io posso mettere un titolo e questo titolo è piogge di paperopoli piogge massime di paperopoli e per esempio ci sono anche degli stili se voi andate a guardare a consultare gli stili per esempio voi potete potreste vedere che esiste uno stile che viene definito in questo modo significa che i dati sono congiunti da linee e dove c'è il dato c'è un punto voglio anche usare che ci siano dei nomi sui che ci siano dei nomi sui miei assi cioè quindi metto un comando che si chiama ax set y label ax quindi è un oggetto anche lui è un oggetto di tipo grafico che si chiamano axis e questi oggetti set y label metto che cosa precipitazioni in millimetri le metto anche fra parentesi così e adesso andiamo a goderci il risultato questo questo grafico è abbastanza buono il non è così chiaro potrei andare a settare le dimensioni e l'aspect ratio del il rapporto fra dimensione verticale e dimensione orizzontale di questo grafico per ottenere un risultato migliore come vedete di default ogni colonna viene plottata ogni colonna con un numero diverso e il nome della colonna viene mostrato nella nella leggenda e questo vi lascio come esercizio il compito di capire come per esempio si può allungare questo grafico anzi io poi in alcuni grafici successivi vi suggerirò io stesso il modo in cui in cui questo viene fatto comunque questo è un grafico sufficientemente decente come vedete qui se proprio agguzzate un po' gli occhi la risoluzione di questo grafico non è il massimo in effetti perché di default la risoluzione di questi grafici è limitata a 160 punti per inch di solito quello che per esempio noi vediamo sulla carta sono 300 punti per inch quindi prima di salvarlo e poi vedremo anche come salvare questi grafici su un file per esempio pdf si può settare si possono settare la qualità del grafico scusate ma questo lo vedremo in seguito quello che mi interessa in questo momento è mostrarvi che sono possibili altri tipi di di grafico per esempio un altro tipo di grafico è un bar plot data punto plot anche qui di nuovo lo stesso comando qui non metto nessuna leggenda però metto solo il tipo e che in questo caso si chiama kind e dico bar ok viene già questo non è un grafico accettabile bisogna allargarlo non è visibile quasi niente sono gli stessi dati mostrati prima come mostrati prima anche questo è un esercizio che lascio a voi come variare il il tutto quanto scusate e invece di bar posso avere anche una delle barre orizzontali che si chiama baracca e posso avere ancora un altro tipo di in questo caso possono avere dei box plot noi abbiamo visto anche i box plot per esempio nella nostra nel nostro nella nostra lezione di teoria e i box plot erano esattamente questi se voi andate a confrontare a parte l'aspect ratio a parte che adesso non ho nemmeno messo gli assi ma se potremmo fare ax.set ylabel precipitazioni millimetri millimetri ok ax.set xlabel durate durate ok come vedete ho aggiunto i miei label e quindi si posso operare in vari modi abbiamo già visto che è piuttosto semplice separare per esempio una sola colonna per esempio se voi fate data 1h quello che risulta facciamo head come prima quello che risulta sono i primi cinque elementi in questo caso se non avessi messo head sarebbero comparsi tutti gli elementi questo mi consente di fare operazioni separate in operazioni separate sui vari dati una delle cose che mi piacerebbe fare per esempio è quella di andare a prendere questi dati e di portare degli histogrammi allora anche l'istogramma è uno degli elementi che sono contenuti in di default nei pandas quindi io posso fare ax uguale data intanto mettiamo così e adesso vediamo che cosa facciamo voglio fare gli histogrammi basta che aggiunga il comando ist e una voce dei comandi una variabile di settaggio del comando ist sono il numero di bins il numero di intervalli su cui suddivido i miei assi e supponiamo che siano dieci cosa ci metto qui dentro ci metto una lista e quindi di nuovo con i nomi delle colonne che io voglio rappresentate e automaticamente il nostro comando mi presenta tutte le colonne che io voglio in questo caso mettiamo 24 ore salto una delle colonne come osservate e quello che mi appare sono i quattro histogrammi ciascuno con il suo titolo pari al nome della colonna e che riporta gli histogrammi dei nostri dati questi sono generalmente dei punti di partenza per i nostri dati ovviamente posso selezionarne anche solo uno perché se io faccio se io ne seleziono uno in questo caso posso anche eliminare la mia lista mettiamo 15 elementi e mi compare il mio histogramma posso fare 12 elementi se volete vedere come cambia il raggruppamento e questo cose di questo tipo peraltro le avevate già viste con concetta ci sono degli se avete domande voi fatele continuate a farle cioè continuate se non le fate io presumo che tutto vada bene e che tutti voi stiate eseguendo i comandi con me in contemporanea ci sono degli altri pacchetti interessanti uno di questi piuttosto standard è Seaborn Seaborn è un altro pacchetto grafico che si fonda sempre su ok quindi dice no module call Seaborn e questo è perché evidentemente non l'ho installato va bene non importa per installarlo dovrei ritornare nel mio caso nella console e installare il comando Seaborn sto usando esattamente la sto usando la distribuzione che avete voi quella che è chiamata geoframe vicenza e evidentemente non è stata installata Seaborn mentre di solito ce l'ho installata ma intanto questo lo possiamo anche saltare vedremo vedremo magari una volta successiva come fare l'installazione aggiungere un pacchetto al vostro insieme di pacchetti intanto andiamo ancora avanti con la nostra esplorazione degli histogrammi dei dati 1H io però potrei per esempio volere non tanto l'istogramma ma quanto quella che abbiamo chiamato Empirical Cumulative Distribution Function Questa funzione è abbastanza semplice da ottenere perché c'è una c'è un sottocampo del comando histogramma che dice Cumulative True Normed uguale a 1 significa che voglio tutto normalizzato a 1 che e Beans 15 mi va bene dice che come vedete viene un warning questo warning che cosa dice The Normed Q Varga sarebbe argomento è deprecato deprecato significa che è ancora valido ma che nelle prossime versioni potrebbe non essere più usate ma dà anche il suggerimento di usare density al suo posto quindi invece di questo uso density vediamo che cosa succede ok allora andiamo a vedere l'errore density e normed non possono essere usate simultaneamente no basta cambiare invece di normed density cumulative resta cumulative true manca ti ha messo density uguale true invece è cumulative true sì sì ok esatto beh ok data 1h ist ok e questa è la nostra sarebbe la nostra distribuzione empirica dei dati che abbiamo utilizzato se ricordate bene almeno in un caso cioè quello dell'applicazione del metodo dei minimi quadrati all'analisi delle curve di possibilità pluviometrica potrebbe non piacermi il fatto che qui di default tutto quanto è tutto quanto è riempito sotto e allora potrei anche andarmi a a costruire una cosa un po' più complessa questo è solo per dimostrarvi che non esiste mai una singola strada qui da percorrere ma ne esistono sempre molte e per esempio potrei usare fare un minimo di elaborazione usando NumPy quindi import NumPy as NP NumPy è un elemento una libreria di analisi numerica voi l'avete già vista NumPy qui qualcuno mi dice professore non riesco ad eseguire un comando data pd red csv txt dice che non trova il file effettivamente il file non mi compare sotto l'Sdir ma mi compare non solo macro cartelle come desktop documenti eccetera e sì perché lei la cosa più semplice che può fare è quella di si tenete conto che io non posso rispondervi privatamente mentre sto facendo lezione quindi quello che può fare si prende il file pluviometria paperopoli.4.txt al momento e se lei vede macro cartelle come desktop per esempio se le mette in questo momento sul desktop poi clicca su desktop e ce le trova dentro lì in questo caso con un pie diventa un po' più complesso nel senso che qui devo import stat models .api as sm questa è una cosa un po' vecchia ok chiamo sample i miei data 1h segno di una nuova variabile questa è una libreria che importa modelli statistici e qui uso il fatto che nei modelli statistici la distribuzione cumulativa empirica è già contenuta e quindi io faccio semplicemente ecdf uguale e uso un comando che è sm modelli statistici distribution punto ecdf maiuscola sample questo mi calcola diciamo i valori rispetto alle ordinate qui delle cioè o meglio questa funzione sdf mi questa funzione sdf non è non restituisce in realtà dei numeri ma restituisce un ente complesso che poi può essere interrogato come se fosse una funzione normale una normale funzione non una funzione normale che è una cosa diversa allora quello che poi facciamo beh intanto eseguiamo questo ok bisogna calcolare ok devo no non funziona neanche questo devo verificare che cosa è caricato e dopo caricarlo mentre queste altre funzioni poi le vediamo dopo vediamo però lasciatemi controllare un attimo questo l'asterisco quando è usato nei comandi serve di indicare ok numpy c'è non c'è statsmodel ok per caricare dopo vediamo come caricare i moduli intanto in questo momento ci fermiamo qua e facciamo una breve pausa grazie a grazie a grazie a